Un uomo di 85 anni è stato portato in eleambulanza all'ospedale di Parma in condizioni molto gravi dopo che l'auto che guidava è uscita di strada e si è rivaltata a Stato. Terribile testimonianza di una donna in tribunale, il principe azzurro piacentino, conosciuto su Facebook, in realtà la picchiava, ma lei non lo lasciava, noi donne siamo fatte così. Il sindaco Patrizia Barbieri ha prontamente risposto al presidente di Confapi, Cristian Camisa, ok a una delega specifica sull'industria, la terrò personalmente. Dopo i disservizi e le polemiche di queste settimane, il comune di Piacenza ha attivato un call center per le segnalazioni relative alla manutenzione del verde pubblico, 800-135699. Sono partiti puntuali alle 18 i 50 tifosi biancorossi che dopo 20 ore di autobus raggiungeranno Trapani per la partita che vale la Serie B per il Piacenza. Mister Franzini carica squadra e ambiente, i servizi nel TGL Sport.